è sempre questo video camera non si regge ma è incredibile raga e mettiti bene salve ragazzi sono robie game singolo ragazzi oggi facciamo call of duty infinite warfare episodio 2 continuiamo raga via stanno malissimo nel posto di questo il nostro fucile granate in questo e via raga oh mio dio via raga oh mio dio no no dai ma sì ma non è possibile raga dai vabbè dai ricominciamo io no dai devo smettere di dire la ciavenna perché se non è un incionio niente così con l'umore tantissimo dai perché dai ragazzi impossibile dai faccio sempre lo stesso errore e non è solo per dire io io sei se vediamo che faccio me lo vado a prendere qui così questo mi piace di più ah finalmente ah ho capito ah ho capito che cosa sì madonna ma che volato un tizio oh finalmente raga qualcosa di davvero buono ah distruggi ecco 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 qui devo qui devo mi serve il jetpack no il botto di segnalazione cheee aspetta che la cosa sta caricando si per segnalare il versigno ora via si dai come ci sei riuscito lo faccio lo faremo manualmente dai ma non si può distruggere così eh perché mi dice che la sto colpendo oh finalmente vai finalmente raga dai distruggilo eh finalmente dopo tre ore ce l'ho fatta ancora oh ma va a cagare va casino proprio raga ancora no ragazzi io giuro che io odio sti cosi no ma 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 si autodistruggono pure incredibile buongiorno buonanotte no mi sono che cos'è eh ah però sono sono per le munizioni raga ok ehm c'è un casino davvero davvero ehm c'è un sacco di gente ok si va bene va bene perfetto si alter via vai vai che bella la tecnologia ordini ti arriva bene bene no dai scemo bellissimo quando mi batte il cuore è fatto bellissimo sto gioco ok andiamo no dai che spavento è fatto fuori tranquilla granata non ha fatto niente uh davvero qui dentro ah ma perché è vero perché è vero oddio penso che eravamo chiuso va vai porca c'è un tizio che è volato sulla macchina morite si usi sul culo aia ah 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 hadi ah 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 successo grantברים Grazie. Ah, posso anche saltare per un nome. Ma è USA questo, cioè è come d'oro, cioè perché c'era lì, ho visto il cartellino? NSUA, oddio, non so leggere mia mamma. Cioè c'era uguale a loro, però. Ma perché io ho due pistole? Lì, madonna, ho due pistole, però vabbè. Rihanna. Sta contro l'associarmi. Oh, ma che figli. No, non meriti no, questo è questo. Bellissimi. Il terreno deve essere tutto il contrario, però vabbè. Oh, non sono i cavi. Let's go. C'è pure Ethan, com'è? Andiamo. Questo è l'autopiloto, ma. d'ultimo punto. Un beata di solito. Grazie. Ok. Madonna che figata. Bene. Ecco. E. Ah ok. C'è pure secondarmi su. Questo tipo. Come come come. No ragazzi. Giro che non so come si fa. Oddio. Abbattigli. Ma che mica vuol dire. Ah. Ho capito. Ho capito. Scusa ma che devo fumare? Ok. 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 Non ho capito che devo fare. Come un gioco che una volta l'avevo sul telefono. La stessa cosa. No. 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 È pericolo. È pericolo. È pericolo di cosa. Ok. Oh mio Dio. Vieni. Ah. Porca miseria. Dov'è? Dov'è? Quello, quello, quello. Ti becco. Eh. Un'altra lì. Quanti ce ne sono? No. Dio santissimo. Mi stavo per schiantare. Quale? Ah. Capito. È ora di forse. Ok. Armi più pesanti. Via raga. No. Ah. Ho capito. Ho capito. Ragazzi ho capito. Ora ho capito come si gioca veramente. Morite. Yeah. No. Quello è l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo quello. Come si vanno da su? Ah. Ho capito. Oh. Madonna. La gente? Non c'è nessuno? Ok ragazzi. Ho capito come si gioca. Distruggo una nave nostra. No vabbè dai. Andiamo raga. Via. Ok. Piano. 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 Che. E' un problema raga. No dai. Non è vero. Non è vero. Fate schifo voi. Fate schifo voi. Ora vi distruggo la nave. No ragazzi. Sto distruggendo tutte le navi. Porca miseria. Mi ammazza tutti. Fate scagare. No raga dai. No dai. Ci sta distruggendo tutto con un pazzo. No dai. Come è ritirata. Porca miseria. Ritornerò. No. Minchia. È un problema. Io sparo. Sto distruggendo. Ma che cosa c'è? Qual è? Distruggendo. 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 No dai. Porca miseria. Ah madonna. Sarà bene perché mi deve. Mi sa che il secondo problema è che sta nave va leggermente a fuoco. Ma la provo leggermente. Ciao robot. Ciao robotino. Ciao ciao. Grazie bro. No. No. ragazzi giuro che non ho saltato giuro che non ho saltato era bloccato oh porca miseria oh posso zoomare è un casino raga oh mio dio ci è crollato quasi tutto raga ciao c'è il kit donna santissimo oh mio dio ma chi mi ha risposto guarda sto figone raga con la pistola d'oro che casino è sta roba raga guarda che è un casino guardate questo madonna un casino proprio raga ok andiamo ho dovuto andare qui è arrivato il figone con il futuro di spesso tenete ha fatto il suo dovere ha preso il buone ha il dovere di riportare a casa il suo uomo non serve non serve no no minchia solo beh grazie a voi Grazie. 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 Oh, oh, che figata raga. Oddio, c'è la gente che sta aggiustando. Io una volta ho fatto un tipo un sogno simile così, che tipo, io sto mettendo una finestra così, tipo una stanza così e c'era la gente che ha aggiustato così. Però vabbè. Ok. Abbiamo un computer. No, 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 no. Cosa? Uh, primo... Ah, abbiamo tutti i sottoni? Che figo! Abbiamo tutte le identità. Ecco, ecco, ecco. No, ma... Grazie. La mia... Ok. Va bene. Dimmi. Ah. Va bene. Ok. Ok. Ehm... Che devo fare qui? Cioè, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Che cos'è? Ah, ho capito, capito che questa roba. No, no, ho capito male. Adesso. Ok. Questo? Ah, quello che abbiamo cotturato. va bene. Ok. 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 Ah, questo qua che li abbiamo ammazzati? Uccisi potrebbe essere, raga. O in guerra. Dovrebbe essere in guerra, raga, però. No, ma... Adesso, ma potrebbe essere che questi qui... Ehm... Le abbiamo... Uccisi. Sì. Sì, ma già tutti uccisi. Come è possibile? No, no, no. Ragazzi, non è possibile che sono già tutti uccisi. Vabbè. Io non ne vuole più. Va bene, ragazzi. Posso uscire? No. Posso fare una minchia? Oh, mio Dio. Va bene, ragazzi. Ehm... Ci vediamo la prossima volta. Guarda se gnocca, bro. Ok. Ok, ragazzi. Aspettate un po'. Stai sfumò? Pronto. Signore, ora è autorizzato ad attivare la gestione dei motori per il salto. Bello. Eh. Dobbiamo saltare. Ok, attivate la ferra della FG. Passate la ferra. Raga. Mostraceli. Ragazzi, mostraceli un casino. Porca mia. Eccolo se lo volevo. Eccolo se lo volevo. Aspettate. Ooooooooo. Cioè, ragazzi, qui e' un compito che andava a fuoco. oh ragazzi lo vedo lo vedo lo vedo il posto che dobbiamo andare forse lì dove ci sia l'espressione ma ragazzi bellissimo ha fatto sto gioco ok ragazzi possiamo anche concludere qui ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ciao ragazzi ciao raga ciao